Benvenuti amici e ben ritrovati in un'altra recensione di articoli, di articoli, di articoli particolari, particolari tecnologici. Oggi andiamo a vedere un orologio, questo orologio. Questo qua è un orologio della She, che ci hanno appena mandato, e ricordo è il modello She Doctor Pro, è il BP, il modello BP. E forse è l'orologio smartwatch più completo che io abbia mai provato. Sì, perché grazie alla qualità e alla bellezza di questo orologio, all'interno ci sono tanti applicativi e tanto hardware che aiuterà tutti quelli che hanno un padre, anziano, noi stessi di mezza età, ormai, per controllare tanti valori. Uno di questi è la pressione sanguina. Sì, infatti lui riesce anche a controllare la pressione sanguina. Ma un attimino soltanto, andiamo in ordine. Adesso vedremo l'unboxing del prodotto, un prodotto fatto davvero bene, con una fantastica qualità. Si vede che questo prodotto è fatto e scelto proprio per apparire elegante in ogni occasione. E noi andiamo a vedere in questo orologio, appunto, come dicevamo prima, la pressione sanguina, quindi la possibilità di monitorizzare anche a livello software. Quindi con l'applicativo, con l'applicazione che potete vedere, riusciamo a monitorizzare la nostra pressione. E non solo questo, lo possiamo fare anche a distanza, quindi potremmo anche, volendo vedere la pressione sanguina, se per esempio questo orologio lo diamo a nostro padre, al nostro zio, a qualche persona che ha dei problemi di salute. Possiamo proprio monitorizzare il suo stato di salute, perché non ci fermiamo solamente alla misurazione della pressione. Ma ancora possiamo viaggiare per tanti controlli sanitari che possiamo fare. Infatti possiamo anche vedere, monitorare appunto la frequenza cardiaca, se c'è uno scompenso, se c'è un battito che salta, quindi un'extrasistole, qualcosa del genere. Quindi avere un'analisi vera e propria dello stato di salute del cuore. Addirittura per chi soffre, che noi a volte non possiamo saperlo perché dormiamo, c'è l'avviso di apnea. Quindi immaginate che quando una persona va in apnea la notte, quindi si toglie il respiro per un attimo, sì, questo qua viene segnalato da questo orologio e quindi possiamo scoprire se la notte andiamo in apnea, cosa gravissima, è da curare perché possono provocare grossi problemi. Quindi è ancora consigliato anche per questo, ma non ci fermiamo solo a questo, ma andiamo anche ai livelli di ossigeno nel sangue. Quindi riusciamo anche a vedere la saturazione. E con la saturazione appunto avremo un quadro completo clinico della persona che porta un orologio. Che sì, vedendolo è un bellissimo orologio, però mai possiamo immaginarci che tutta questa tecnologia sia dentro questa bellissima forma appunto di design. Andiamo anche al controllo del sonno, ma lui avviene in automatico. Quindi figuratevi, lui riesce a monitorizzare il sonno quando noi andiamo a letto. Quindi automaticamente parte e ci fa capire se abbiamo dormito bene, quando è la fase RM, quando abbiamo avuto dei risvegli notturni, perché a volte possiamo svegliarci la mattina un pochettino stanchi e questo avviene proprio perché magari non abbiamo dormito bene la notte. Quindi immaginatevi cosa può fare. Un assistente quotidiano, se dovessimo pagare un assistente che ci va, un medico, meglio ancora, che venga a casa nostra e vada costantemente a misurarci tutte queste cose, insomma, realmente sarebbe impossibile. Ma lui con questa fantastica applicazione riesce veramente a darci un quadro di valori alla persona che utilizza questo orologio. Infatti questo orologio credo che sia veramente a volte anche un salvavita. Quindi vi consiglio di andare nel sito e andare a vedere quello che vi sto mostrando e andare a ordinare questo fantastico orologio per fare magari un bel regalo alla persona cara o a chi realmente vuole anche stare bene. Perché vi ricordo che c'è anche la funzione fitness che potete anche controllare il cuore e fare movimenti. Quindi diciamo è adatto per le persone più avanti dell'età per un controllo della pressione sanguina. Ma oggigiorno tutti potremmo avere un piccolo problemino e grazie a questo fantastico orologio possiamo risolverlo tramite poi giustamente i medici che verranno in nostro aiuto grazie all'orologio che ci ha segnalato questo. Quindi ringraziamo ancora Shea per il fantastico orologio che ci ha mandato lo useremo tantissimo di sicuro e grazie ancora e mi raccomando vedete in descrizione tutto come acquistare questo fantastico orologio. Grazie ancora per essere stati qui un abbraccio forte da Davide Calt TV Grazie a tutti.